Siamo su Zoom, cioè siamo su YouTube, in diretta YouTube, ci apprestiamo a fare questa diretta, parlo io Massimo, ci apprestiamo a fare questa diretta, su storia locale, ci siamo. Siamo su YouTube, in diretta YouTube, ci apprestiamo a fare questa diretta, parlo io Massimo, ci apprestiamo a fare questa diretta, su storia locale, ci siamo, ci siamo su YouTube, in diretta YouTube, ci apprestiamo a fare questa diretta. Ok, accetto. Reghini, Reghini, Arturo Reghini, Evola Genon, così si chiama la diretta, appunti di viaggio per una ricerca interiore. Questo è il titolo della porfarenza, che stasera Massimo Chiapparini-Sacchini terrà per noi. Lui ha studiato filosofia e di Luca, ha studiato filosofia, si è lavorato a Pisa, filosofia, sempre discendente, abbiamo detto, di Cristiano, Napoleoni, ci parlerà meglio lui, Giuseppe-Sacchini. Da sempre è studioso, sia dell'esoterismo, sia studioso della filosofia esoterica, così ci siamo conosciuti. Quello che sta dietro a Giuseppe-Sacchini, di cui noi abbiamo già parlato, questo canale, stasera, e lascio la parola, pregami di attivare l'audio a Massimo Giapparini, in basso a sinistra. L'audio è attivato, allora c'è da dire per prima cosa che fanno da sfondo ovviamente il fatto che all'Università di Pisa, purtroppo, quando l'ho fatto io non c'era, le pesanti e consistenti ricerche di Gian Mario Cazzaniga, che ha pubblicato due volumi della storia prestigiosa di Renaudi sull'esoterismo, dove ci sono, mi sarebbe purtroppo, ho conosciuto il professor Cazzaniga, che sta a pochi chilometri da casa mia, dopo, perché altrimenti sarebbe stato interessante provare a dare il mio contributo su queste cose qui. Nella mia tesi di laurea me la fece la professoressa Caterina Cogno, una grande studiosa cattolica che sapeva, a differenza di me che sono l'asino per le lingue, sapeva sascrito, tibetano, greco, latino, sapeva tutto, e purtroppo non ha avuto molta fortuna, così, commerciale, così, perché non aveva forse quell'input che gli permetteva di avere le aule piene, perché gli argomenti che trattava la professoressa Cogno erano giganteschi. E, fra l'altro, lei ha seguito la vicenda di un monaco benedettino, se lo conosco bene, è Rilesu, che in qualche maniera ha tentato, come un novello Matteo Ricci, ha tentato di adeguare, effettivamente, di capire veramente l'India e di non andare, come al solito, la persona che voleva proporre un cambiamento e tutto, ma di inserirsi in quella cultura, e prego, sì. Cosa che bisogna vedere se è giusto, però, insomma, in qualche maniera era il suo interesse. Il correlatore erano due, uno era Marco Tangheroni, che è stato un prestigioso esponente di alleanza cattolica, quindi una persona che era anche ferrata sull'argomento, e in qualche maniera non era neanche, fu civilissima, una persona gentilissima, ma non era neanche benevola, no, perché se si va a vedere le posizioni dei gruppi cattolici su René Guenot, voglio dire, chiaramente su Evola, che non è Reghini, non è che sia il massimo per il mondo cattolico. E l'altra persona era Massimo Varale, che era un studioso marxista, che è hegeliano, che dava anche te, cioè, comunque un grande studioso che nella sua diversità riuscì anche a darmi un contributo, perché, gentilmente, mi trattò molto bene in sede anche di valutazione dei tessi. Detto questo, poi dopo ho interpretato un po' di allontanarmi da questo sapere, tra virgolette, profano, cioè non volere un po' così, ho vissuto un po' addormentato, ecco, in questa stasera invece mi sono pentito, poi in qualche maniera, quando sono pensionato, mi sono pentito di più, e in qualche maniera voglio, ho voluto fare un percorso, dire così, cose. Chiaramente, poi alla fine, nell'economia del discorso, che tempo passa, scorre, poco tratterò di Evola, no? Perché intanto ne hanno parlato Sessa, ne hanno parlato Germinario, quindi accenerò qualche cosa, è importante perché è così. Tra l'altro c'è una cosa, ecco, questa invece me la sento di dire, sono stato a Villa Bertelli, no? Qui a Ponte dei Marmi, a vedere la mostra, la mostra su l'Evola, Giusevola, lo spirito dell'arte con Sgarbi e tutto. Devo dire che ero andato anche un po' prevenuto su questo terreno, invece devo dire che la mostra di Evola era emozionante, molto bella, molto significativa, e chiaramente rappresentava una conoscenza della sua opera indispensabile, ecco, non è che si può fare questo, non è così. Detto questo, chiaramente introduce anche un po' l'altra prospettiva con cui guardo, e chiaramente Evola, ecco, ho visto anche recentemente, io fra l'altro ho conosciuto a suo tempo sia il professor Cassata, che anche credo di aver, quello Cassata l'ho conosciuto anche direttamente, perché sono stato, era amico di un amico mio, che da un po' di tempo purtroppo non vedo più, che si chiama Mauro Laspanti, che dirigeva la Scuola di Pace a Bologna, e poi ha scritto dei libri su preziosi, degli articoli su preziosi, su queste cose, il loro interesse era prevalentemente politico, cioè così, e riguardava anche la tematica che ha toccato il professor Germinale del Razzismo, la mia discussione era di far vedere che in qualche maniera l'opera di Chieno poco aveva a che fare con quella di Evola, poco aveva a che fare, e quindi c'è un problema di questo genere qui. Non credo che sia una strategia giusta di fare, di alzare barriere, così, quando Evola, quando fanno convegne su Evola, ho visto l'assurdo che hanno fatto, hanno alzato barriere su il convegno di Evola che ha fatto il rito di Memphis e Mr. del grande lente a Palazzo Giustiniani. Ora che qualcuno si permetta anche di discutere, di mettere in discussione la libertà della massoneria, riparare Evola, mi sembra assurdo, no? Questo è veramente fuori di giù. Però, ecco, in questo senso, va detto che Evola, a questo punto bisogna dire che questo è il parere, non di Massimo Giapparini, ma di un Massimo Donà, del povero compiante Franco Volpi, no? Cioè, voglio dire, sono professori che sono stati di grande caratura, di grande livello, cioè, l'AMI, c'è, ma anche altri professori, ma lo stesso professor Sessa, sono tutte persone così. Però la discussione verte che Evola è un grande che incontra, però nella vita due persone più grandi di lui e un terzo che è più bello di lui, incontra nella vita quello che è, a mio volutazione, a mio giudizio, a mia prospettiva, però quella che è il più grande maestro spirituale degli ultimi secoli, che renega, no? Maestro spirituale degli ultimi secoli, già dice che può a che vedere con tutto il mondo, tradizione integrale, così, queste cose che sinceramente portano in un'altra dimensione, no? E bisogna vedere che, in qualche maniera, quanto Evola sovrapponga su questi contenuti i suoi percorsi precedenti, come scrive un'altra persona che non c'è più e che non era nemmeno molto favorevole negli ultimi tempi a Guenot, il professor Di Bona, no? Non so se si deve parlare, era uno dei più grandi studiosi di Spinoza in Italia, che dalle linee di ricerca, in qualche maniera, su Spinoza, sulla Kabbala, sulla cultura ebraica, era arrivato, doversi confrontare con l'opera di Guenot, ha scritto dei libri grossi, famosi, importanti, e chiaramente arrivava a una concessione non negativa, un giudizio negativo, su Guenot, ma ci arrivava proprio su, riflettendo sull'ontologia, su tutte le dimensioni. Quindi anche il professor Di Bona, come poi un'altra persona che io ho conosciuto personalmente, anzi, in questa sede, spassa il tempo però, vedo adesso ci vuole essere più veloce, in questa sede riprendo un percorso che era quello che avrei voluto fare come seconda laurea con Giorgio Galli. Con Giorgio Galli io volevo fare una tesi sulle letture non evoliane di Guenot, non fu possibile perché mi chiesero come esami, una marea di esami, la marea di esami, mi rendevo conto che Giorgio Galli non era amatissimo nel suo istituto per le tematiche, che sembrava strano, però insomma è così. Ho seguito una tesi che c'è su Inter del dottor Gianfranco Massetti che ha sostenuto una tesi con Giorgio Galli su Guenot. Da riflessione e pagina di Galli so che ha dato una tesi su Reghini che purtroppo non sono mai riuscito a intercettare, quindi poi è così. Veniamo, comunque cerchiamo di essere brevi e in qualche maniera cerchiamo di introdurre Reghini e introducendo lo introduco, farò qualche lettura, forse spero di non perdere troppo tempo, così ecco voglio dire... Abbiamo tempo, abbiamo anche nore. No, ma io voglio dire, ecco, vediamo un po' se sono stato bravo. E c'è la prima cosa che va detto, ecco, che qui c'è... C'è il Giano, no? C'è i fasti... Quale Dio dirò che sei, obicipite Giano? Perché non ha la Grecia nome che ti sia uguale. Anche dimmi la causa, perché solo tu dei celesti vedi ciò che c'è davanti e dietro il terro. Mentre pensavo che questa tavoletta tra mano più lucida di prima apparve la casa. Allora il sacro Giano, mirabile nel duplice aspetto, di improvvisano gli occhi, sofferse con due punti. Questo ci permette di dire una delle tematiche che, un po' discusso tra Ghanò e il Mondevoliano, però Ghanò riporta, questa figura di Giano, la riporta a una lettura successiva dei due San Giovanni, no? Quindi in qualche maniera viene attribuita a Giano una funzione importante nei confronti, come si dice, delle corporazioni muratorie e delle corporazioni romane, quindi viene riportato così. Questa è la prima parte e questo è un po'. Un'altra lettura brevissima, anche questa è una lettura brevissima che chiaramente più a mano farò. Ecco. è anche il discorso di Carandini, perché è mutata, ecco, mutata la situazione, no? Prima erano più considerate così, adesso invece credo che per provare a spiegare la storia più antica di Roma sia necessario essere storici di un genere speciale. Bisogna immaginarsi un po' re, un po' sacerdoti, uomini di religione, oltre che di ragione, perché i primi romani credevano fermamente nei dèi, nella loro concreta influenza sul mondo degli uomini e nei rituali che potevano determinarla. Insomma, in quelle che noi possono apparire fantasie. Questo è interessante, perché in qualche maniera dà l'idea, ecco, forse di un mutamento che c'è stato, no? Nel sentire, nelle cose, nel mondo culturale, dove questo percorso non era più accettato, non era più visibile. Ora, purtroppo, vediamo un attimo, forse se riesco. Scusami, voglio partire una domanda. Prima, che scoperti lo conoscono, Reghini, vogliamo fare un profilo biografico di Scevolo di Armentano? Ah, sì, questo lo voglio. Vediamo un po', Arturo Reghini, chi era? Chi era? Lo davo un po' per scontato, forse non l'avamo preparato. Per scontato. Arturo Reghini, su Arturo Reghini ci sono due biografie che sono, e adesso è uscita anche la terza, no? Sì. Lui è nato a Firenze nel 12 novembre del 1878 e in qualche maniera comincia un suo percorso di riflessione nella società teosofica, ecco, nella società teosofica e dove incontra anche Giovanni Amendola, no? E poi, questo suo percorso sfocia nell'iniziazione massonica, no? Nel senso così. in questo contesto, se non sbaglio, la loggia, poi la riprendo un attimo, è una loggia lucifero di Firenze, ma succede qualche cosa di particolare che dopo un po' entra in contatto con un personaggio misterioso perché in qualche maniera Reghini è il Socrate, no? È il Plotino, però qui c'è un Ammonio Sacca, misteriosissimo personaggio che è Amedeo Rocco Armentano, che è una, più giovane di Reghini, un musicista che in qualche maniera Reghini considera sempre come suo maestro. Calabrese, Calabrese. Calabrese, sì, Torre Scalea, queste zone. Scalea, c'è la torre, c'è la torre del Tauro. C'è la torre che sembra appartenesse anche a loro e quindi c'è forse a queste cose, mi sembra di aver letto che anche Giovanni Amendola andava a queste cose. personaggi prestigiosi. In quella casa lì, in quella torre che ho visto a Scalea, insomma. Dovrebbe essere la torre Scalea, sì. Ora, anticipo una cosa, gli Armentano, Armentano, all'indomani della sconfitta di questo processo suo, di questa tenera così, andò a stare in maniera definitiva in Brasile. La nipote di Armentano l'ho conosciuta di persona a Firenze quando venne per, come si dice, per il primo luglio del 2006 a ricordo della celebrazione di Arturo Righini. C'era la signora Emilia Armentano ha sposato Roberto Sestito che è uno dei maggiori animatori nel mondo di ricordo sia di Righini che ovviamente a questo punto suo parente Armentano. In questo giro che ci dava Armentano, Righini, Amendola, mi dici altri anche, nel giro, nel questo giro, insomma, mi senti, in questo giro chi c'era? Eh beh, ci sono anche altri personaggi, c'è un personaggio che è questo Frosini che poi anche lui danno origine al rito filosofico, però questo è più riguarda direttamente Righini e Righini e come si chiama? Righini e Armentano, ecco, a me non credo che partecipi. Poi ci sono anche dei personaggi fiorentini che Righini è una figura che si lega molto anche al mondo del futurismo, delle riviste, diciamo così, non è una persona isolata, no? C'è una biografia che adesso in questo momento tanti anni fa la laorista che anche che lo ricorda di Marco Rossi, ricorda questo figura leggendaria di Marco, ecco, che si presentava così e quindi lui frequenta il mondo delle riviste le giubbe rosse quando è stato fatto il ricordo di Righini viene fatto alle giubbe rosse, no? Proprio perché frequentava quest'ambiente e poi lui comincia con Frosini a organizzare questo rito filosofico italiano, no? Questa diversa struttura massonica che in qualche maniera però entra in contrasto entrano in contrasto con Frosini sia lui che Armentano e si organizzano in altra maniera, ecco, quindi non era così. Poi dopo c'è il periodo della guerra e quindi anche questo è un momento particolare. Nel frattempo Righini adesso non mi ricordo certamente che è data, si laurea alla normale di Pisa in matematica e questo è un elemento importante perché ci sono delle cose di Righini che non sono popolari e nemmeno io capisco. Non sono state tutte rimesse perché richiede una competenza matematica molto più alta di quella normale e ci sono stati degli studiotti che sono due laureati in fisica che da matematica che stanno curando l'edizione di questi libri tutti di formula e così perché negli ultimi anni della vita di Righini quando fu sconfitta la sua prospettiva in qualche maniera in qualche maniera si ritirò in una vita di studioso insegnava a Budio insegnava a Budio nelle mie Romagna e la tomba di Righini in effetti è lì è a Budio per un certo periodo lui è stato oscurato nel senso che nel momento in cui c'è stato questo rapporto di Evola è stato oscurato un po' così il problema è che quando poi c'è imperialismo pagano Reghini pubblica questo articolo che lo pubblica nel 14 e poi lo ripubblica che è un po' il manifesto c'è da dire questo per fare una valutazione di Reghini bisogna considerare in qualche maniera bisognerebbe che quando hanno dato rapito a tutti quelli che assistevano dovranno dare imperialismo pagano Reghini è un po' la sintesi del mondo di soggio mentale in tutto questo suo manifesto che è quello che in qualche maniera dichiara le intimità di questo percorso dove ci sono degli eccessi ci sono delle cose però in qualche maniera trova la sua ragione perché imperialismo pagano di Reghini a differenza di quello di Evola finisce per parlare bene Marzini e Garibaldi quindi chiaramente è un percorso è un percorso diverso e con Reghini una figura importante è il suo discepolo che è Giulio Parise anche questo scrive poco non ha molto così però è anche importante perché poi in contrasto di Evola si trovano a disputare il rapporto sentimentale con Sibilla e Ramo è un po' se riesco a trovarlo al volo volevo leggere volevo leggere forse no no volevo però volevo volevo leggere volevo leggere il Carme al Sole di Ramedeo Rocco Armentano un carme che lui ha scritto che testimoniava in qualche maniera in qualche maniera così se riesce a trovarlo sì 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 aspetta ecco qui c'è la prima cosa che il primo articolo che c'è di Reghini il primo articolo uno dei primi articoli vediamo un attimo Massimo scusa la domanda ma loro con la fondazione Monte Verità quella che sta sull'ago Adarone quella che sta in Svizzera teosofica tenevano qualche contatto in comune non credo non credo non credo che abbiano avuto loro senza altro sono stati interessati a tutto ma ma sa questa Monte Verità chi c'era c'era come si chiama quello c'era cosa Monte Verità da Arona credo no aspetta un altro credo loro il loro percorso si si in queste riviste in queste avventure di queste riviste però vediamo un po' beh beh volevo Ascona 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 no ecco qui vediamo questo uno una delle manifestazioni della di Reghini ecco questo dice è molto interessante nel uno dei primi articoli che scrive nel 1907 è sulla massoneria come fattore intellettuale no e in questo si rivela uno degli aspetti più importanti di Reghini Reghini è un massone che non lascia non fa sconti non fa prospettive non è che si mette che si mette in qualche maniera a a a fare celebrazione della massoneria no e domanda infatti corrispondono infatti a questa pretesa veramente la massoneria ha fatto le utili nell'avanzamento del pensiero umano possiede rappresenta un pensiero filosofico dal segreto dei tempi esercita un'azione intellettuale su quell'ambiente più vasta che si chiama mondo profano e invece in qualche maniera fa fa un'osservazione interessante no in tale condizione quale può essere la funzione della massoneria funzione filosofica intellettuale che si pretende esercitare e vediamo un po' ecco qua per attaccare e demolire il pensiero cattolico bisognerebbe essere meno antiquati più colti e specificati dei cattolici i framassoni pretendono appunto e si illudono di essero ma le differenze fra preti e massoni stanno nel segno più che nel valore assoluto avversari della regione cristiana e della regione in generale non sono a contrapporre all'innegabile modernità e larghezza mentale dei neocattolici che romanzi peregrini di Ernesto Renat e le teorie stantiere dei vari così e questa è un po' la caratteristica dei reghini che non si presta ecco a una riflessione così vediamo nel contesto delle sue nel contesto delle sue delle sue valutazioni c'è stata ecco c'è stato il problema della lenta ripresa dell'opera di Reghini in Italia culminata anche in varie manifestazioni e qui c'è stata la possibilità di uscire un libro su paganesimo pitagorismo e massoneria a cura dell'associazione pitagorica perché succede questo l'opera di Reghini viene in qualche maniera nel momento che viene sconfitta viene dimenticata no? è dimenticata e allora ci sono due sembrerebbe che anche ci sia stato nel rito scozzese italiano ci sia stato Gaetano Cavolacci che era in qualche maniera legato a Reghini ma non c'è stata traccia in qualche maniera il terreno di ripresa di una lettura di Reghini passa tramite il mondo eboliano che piano piano si avvia a leggerlo perché scopre da 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 eh il cammino del Cenabolo la biografia di Evola scopre la figura di Reghini e quindi si viene incuriosita cioè qui appunto una delle prime manifestazioni di questa è no scusa scusami una delle prime manifestazioni di questa è no 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 non posso non posso forse è meglio che disattivare il cellulare no no ma sì l'avevo disattivato solo uno allora dicevamo mostra il libro sì uno ecco questo libro è una ristampa Arturo Reghini il simbolismo da decimale il fascio etusco no questo qui è curato da uno dei grandi lettori di Evola che è il professor delato del ponte e chiaramente l'importanza della collagazione di Arturo Reghini fra i due notevoli studiatori italiani nella tradizione di questo secolo risiede a nostro parere non tanto nel vano tentativo disinteressato ma fatalmente destinato all'intercesso di rimitalizzare la massoneria al suo interno quanto l'interesse lui ha portato allo studio e alla riscoperta della tradizione italica e questa è la lettura che fa e che in qualche maniera rappresenta il terreno di questi elementi l'altro ecco ritorniamo ora invece ecco paganesimo paganesimo pitagorismo e massoneria curato da un gruppo di ricerca di Reghini che era strutturato principalmente in Calabria e in Sicilia dove ripubblicano alcuni articoli importanti di Reghini che non sono mai apparsi più il dominio dell'anima che è una conferenza tenuta nel 1907 alla biblioteca di Biblioteca Filosofica di Firenze questa biblioteca Filosofica poi è stata se non sbaglio è stata sempre più importante poi per un certo periodo ci ha lavorato se non sbaglio a regole vasti e poi anche è stato anche un terreno di ricerca di Marco Vannini il traduttore di Eckhart no? perché c'erano un sacco di libri un sacco di riferimenti così in questo articolo qua cioè la soluzione quindi dell'esame dei grandi problemi della vita della morte dell'io e di Dio non soltanto corrisponde a un bisogno naturale dello spirito umano ma anche a una necessità pratica per la conseguente ripercussione tale soluzione la condotta all'orientamento della vita individuale collettiva altri elementi altri articoli ecco qua ecco poi ci sono nel 1924 per esempio anche in questa in questa antologia c'è un articolo si può dire massoneria no? e dove Reghini osserva a ogni modo si può osservare bisogna osservare che per la verità non si tratta di una carta originale del decimo secolo ma di una copia fatta nel dodicesimo secolo e porta a stretto rigore non si può scudere che queste parole leporia soliva maconica siano state malette o maliprodotte comunque vuole dire se si risale l'espressione casa maconica era adoperata aveva un significato si rietrae dunque a un periodo anteriore a quello all'anno con la voce francese macon e quella inglese ma son e voci di queste erano in uso in Inghilterra e in Francia con questo l'origine italica della parola massone e della sua priorità e indipendenza delle voci inglesi e francesi resta dimostrata vediamo un attimo ecco qua però conviene in qualche maniera arrivare a quello che è l'articolo l'articolo fondamentale di Reghini questo è così è che questo è imperialismo pagano non so se è presente se ti è mai capitato di leggerlo se ti è capitato mai di leggerlo faccio soltanto letture storiche mi dispiace cosa? faccio soltanto letture di storia sai di storiografia no no questo è un articolo profetico perché in qualche maniera fa riferimento nelle recenti elezioni politiche e universali suffragio universale estremo corogliare postura democrazia ci ha portato al triunfo il centricismo certo i due partiti infatti che hanno più visto aumentare il 12 di chi anno è? di chi anno è? il 14 nel 12 suffragio universale il 14 i due partiti infatti che hanno più visto aumentare il numero dei loro voti sono stati senza dubbio il calicare il socialista certo e quindi dice dall'altra parte il partito nazionalista pur uscendo vincitore in alcune belle battaglie non ha saputo ottenere il successo proporzionato e quindi fa un'altra riflessione fa la riflessione che piano piano il mondo cattolico si sarebbe sempre di più insinuato nella politica italiana fino a qualche maniera a rappresentare la forza fondamentale a quel punto lui ripropone le tese dell'imperialismo pagano che è poi sono tese che vengono anche riprese da Evola e il problema è che poi in qualche maniera eredita un anticristianesimo che è quello anche nicciano per certi versi e lì si vede forse anche i difetti maggiori di Reghini però riporta anche questo scontro è una cosa che secondo me è successo anche questo nella vita si vede che quando uno fa un liceo il periodo di passaggio tra il cristianesimo e la città pagana non è mai tematizzato non c'è una riflessione su quale sia stata la situazione i problemi è l'ultima parte del programma se riesce a farlo non ci si arriva così personaggi come Filone Alessandrino le discussioni Faldinici e l'Europagic tutte queste cose qui non vengono mai riprese ecco perché in qualche maniera c'è questa necessità di capire di più e Reghini rappresenta questa lettura dove il cristianesimo in qualche maniera viene visto come la forza che ha distrutto l'impero romano che ha cancellato questa cosa e poi riporta la riflessione su questo mondo medievale vediamo un attimo se trovo la pagina vediamo lui scrive così quando gli imperatori si accolse della novità era troppo tardi l'infezione si è rapidamente diffusa attraverso l'impero e raggiuntasi in allupo e il ferro e il cuoco usati più generosamente di quanto purtroppo non lo siano stati non avrebbero potuto più salvare l'Occidente così mentre la pax romana assicurava una gran parte dell'umanità una condizione di benessere e di felicità che secondo il Ghibo mai più raggiunta per tutto l'impero dilagava l'inondazione del latte e miele e poi comincia a dire fa la riflessione su questo mondo medievale fa vedere la chiesa raffigurata dai trovatori dei poeti d'amore Dante compreso come la bestia apocalittica o abominazione babilonese si sentì profondamente minacciata si difese con tutti i mezzi i primi apostoli dall'Evangelio ferro scudo e lance è quindi chiaro che sono le prospettive di un mondo laico che in qualche maniera minimizza anche la minimizza l'intelligenza del mondo cattolico non è così successivamente Ebola riprenderà queste riflessioni e scriverà in questo libro imperialismo pagano che è poi quello che creerà succede questo che Reghini in qualche maniera dopo la guerra si avvicina alla massonina di piazza del Gesù viene inserito in questo contesto viene ad avere un ruolo dirigente e ha questa rivista Atanor e Ignis e successivamente viene in questa rivista comincia ad arrivare a prendere importanza la figura di Ebola che ha una persona che è nella fiducia di Reghini ma poi Ebola in realtà pubblica questo libro imperialismo pagano che è in qualche maniera una forma estremizzata e maggiore della prospettiva di Reghini ecco infatti c'era una bella edizione c'era una bella edizione di 38 c'era una bella edizione della fondazione Ebola di De Turris che è così dove ci sono proprio con la prospettiva con la prefazione del professor Bonvecchio che in qualche maniera è una bella edizione principe ecco e lì vediamo le frasi le frasi fondamentali dove in qualche maniera vediamo l'anti-Europa e l'anti-cristianesimo l'anti-cristianesimo è una tradizione mediterranea classica pagana la nostra tradizione questo bisogna assolutamente capire però la divergenza fondamentale per certi versi che poi porterà a distanza così che per Reghini e Parise quando intendono questa tradizione classica mediterranea fanno riferimento anche a e tramite sotto sotto la presenza la figura di di Armentano al pitagorismo e comincia a apparire in queste pagine comincia a apparire le riflessioni sui numeri pitagorici che poi forneranno le parti matematiche dell'opera di Reghini e c'è e questa qui sta a significare poi anche chiaramente una dimensione legata alla massoneria viene ribadita questo rapporto fra massoneria e pitagorismo e Reghini scrive un articolo molto importante cioè un articolo un libro molto importante che è le parole sacchie di passo ecco questo è qualche cosa le citeremo però vedo che il tempo scorre inirrabilmente vediamo in trovare qualche pagina significativa sì sì ecco qua scusami tu qui poi anche no no devo chiudere no cioè ho questo allora tradizione qui scrive tradizione massonica similitudine le cerimonie analisi filologica cabalistica filosofica delle parole sacre tutto concorda dunque a indicare come il vero senso della cerimonia iniziatica massonica qui è il rezzograto in specie sia nella conquista dell'immortalità attraverso la morte e la resurrezione nelle cerimonie iniziatiche antiche per esempio un Dio che muore o è ucciso e poi risorge e vita è mortale così accade un Dio in osì no porca miseria aspetta lo spengo direttamente e se certo forse conviene se no non ce ne andiamo no no ma è la vero la vero vabbè ecco qua scusami nelle cerimonie iniziatiche antiche per esempio un Dio che muore e ucciso poi per risorge e vita è mortale così accade in osì di Dioniso altisemita e senza entrare nel mare magnum delle comparazioni delle derivazioni è indubitabile per inoresolabili ragioni cronologiche che l'egiziano osì del prototipo di Gesù e di Iran come osì di Gesù viene ucciso così viene ucciso come lui scende dopo la morte agli imperi poi triunfano i cieli Gesù triunfa nell'avversario di Satan come ora osì diretti triunfa di sette e quindi ecco fa questi riferimenti e di far vedere come ci sia questo legame tra le antiche iniziazioni e la massoneria moderna ora c'è qui un elemento poi adesso passiamo a parlare di Ganon perché è importante far capire altre cose nel lontano 2016 sono stato uno degli organizzatori di una giornata di studio a Vereggio su pitagorismo e massoneria ecco e qui c'è da dire una cosa importante posso citare una cosa molto bella perché molti conoscono la vicenda di Giorgio Colli il professore della Delpi Giorgio Colli era professore di filosofia che prima ha tradotto Aristotele ha tradotto Kant e poi è stato l'uomo fondamentale per la riproposizione dell'opera di Nietzsche in Italia che inizialmente se non sbaglio dava proposta all'Enaudi poi l'Enaudi non l'aveva accettata e da quella era nata la Boringhieri in Enaudi era nata da questa cosa da questo percorso è nata da Deppi e tramite Mazzino Montinari che è stato in Germania e Giorgio Colli ha permesso le edizioni complete a Nietzsche dando poi a vita a tutta una casa editrice che ha avuto così all'interno di questa casa editrice Giorgio Colli poi negli ultimi anni purtroppo e molto propriamente stava facendo stava elaborando una riflessione sulla Grecia sulla sapenza greca e soprattutto sui miti originali della sapenza greca e questo all'interno il suo assistente a filosofia era Valerio Martini che partecipò a questo convegno e ha scritto questo convegno che abbiamo fatto a Beriggio c'era Angelo Tonelli che è il filologo a cui Leo Bombiani ha affidato tutta la tragedia greca tutta la tragedia greca poi c'era Luciano Albanese che era l'assistente di Lucio Colletti che però nel tempo ha sempre di più fatto ricerche e analisi sul pensiero antico sul rapporto nel neoplatonismo tutte queste cose giambico e tutte queste cose c'era Valerio Martini che era l'assistente di Giorgio Colli che poi adesso ha insegnato teoretica a Bari e c'era il professor Piero Mander che era un semitista di grandissima importanza ecco io qui per parlare di Reghini poi a questo punto passiamo a Gionon perché se no ci vuole il tempo ci vuole il tempo e poi così ecco qua aspetta un momento il testo fondamentale con cui Reghini chiude la sua vita è questo numero di sacri nella tradizione pitagorica massonica e l'assistente di Giorgio Collis e poi il futuro professore di teoretica a Bari scrive se esaminiamo i numeri sacri nella tradizione pitagorica massonica di Arturo Reghini ci troviamo di fronte oltre che a complesse ricostruzioni della ritmo geometria pitagorica che analiticamente sono state esposte per la situazione per la restituzione della geometria pitagorica e dei numeri pitagorici alla loro forma primitiva a una complessa lettura del simbolismo e della ritualità dei libri moratori ad esempio nel capitolo 4 il pentalfa pitagorico e la stegna fermeggiante noi non abbiamo soltanto dimostrazioni di proprietà matematiche delle figure lustrate parte aurea ma hai ragione nel significato simbolico che per Reghini vale riunire i più sensi noi possiamo leggere queste parole il numero 5 pentalfa è il simbolo dell'armonia e quindi anche il simbolo della fratellanza pitagorica come la stella fiammeggiante è il simbolo della fratellanza massonica cementata dal brother club qual è il presupposto di questo modo di ragionare il presupposto è che secondo Giambico la più grande rivelazione capullo e pitagorio ha fatto al mondo è quello dell'armonia delle sfere e della no no l'armonia l'armonia delle sfere scusami prego no non può può parlare scusami questo è il presupposto la prossima volta la prossima volta facciamo meglio questo è il presupposto di questo modo nazionale il presupposto che secondo Giambico è la più grande rivelazione capullo e pitagora ha fatto del mondo è quello l'armonia delle sfere della musica sapiente che ne ispira si presuppone dunque il principio armonico lavorando su questo principio sul postulato della continuità Reghini può scrivere che gli antichi documenti attestano la continuità della tradizione tradizione massonica che si richiama a Pitagora l'identificazione della massoneria con la geometria e la pretesa dei massoni di essere soli a conoscere i numeri sacri e può dare una connotazione tipicamente pitagorica al delta massonico identificandolo con la sacra teotraptis ecco con questo un po' facciamo chiudiamo perché il tempo scorre vedo ho visto siamo ai che te non ho a 47 stiamo a 47 allora facciamo brevemente la riflessione su Evola dicendo questo Evola in qualche maniera nel momento in cui si allontana da Reghini comincia a fare un percorso che lo porterà poi a avvicinarsi a Preziosi a avvicinarsi a tutte quelle cose di cui parla di cui parla anche di cui parla anche di Cerminario ma c'è una cosa di diversa che bisogna dire che a Lucca c'è stata una riflessione di una persona che era il magistrato Piero Fenili che era molto vicino a Evola tant'è vero che era molto estremamente amico di Placido Crocesi il medico di Evola che da Reghini ha cominciato a riflettere e in qualche maniera ha fatto un'analisi dell'opera di Evola che ne mostra la distanza di Reghini la distanza da una riflessione esoterica e fa vedere tutti i lati in cui Evola piano piano scivola in una dimensione che non è più quella della tradizione pitagorica mediterranea di Reghini ma si avvicina a questa riflessione nordica che poi la caratterizzera adesso sarebbe lungo il discorso e lo faremo un'altra volta perché te lo riprendo prima ti dovo anche la traccia scritta ecco questa opera di Fenili è stata in qualche maniera criticata ma successivamente cioè il professore di Bona quando prima di morire aveva scritto che fondamentale la riflessione di Fenili per mettere in qualche maniera per fare un approfondimento reale di Evola la riflessione di Piero Fenili è un punto fondamentale è successo questo però nel frattempo era stato era stato Reghini a mettere in contatto Evola con Reghenon c'era stato c'è stato quindi un avvicinamento di queste persone e in qualche maniera l'opera di Evola risente moltissimo dell'opera di Genon addirittura c'è come illustra il professor Grossato c'è una revisione di di Genon a rivolta molto moderna l'opera fondamentale di Evola che è questa qui che è ripresentata in edizione però questo crea un grosso problema successivo il problema di quale è il rapporto vero e profondo con di Evola e di Genon contemporaneamente l'opera di Genon fondamentalmente una differenza fondamentale riguarda la metafisica le prospettive di lettura e piano piano in Europa di Genon si permette si struttura una loggia a Parigi la grande triade l'ultimo libro di Genon è la grande triade è uno degli ultimi libri dove fa tutto un argomento che è l'argomento che riguarda il mondo cinese ma in realtà è bifaciale perché tutta una serie di impressioni su questo mondo cinese in realtà si ripercuote nel mondo massonico e René di Genon si dà molto da fare per attivare questa loggia la grande triade e in questa loggia ci sono due personalità e tre personalità Reior Già Reior Denis Romain e Roger Maridolt Reior in qualche maniera si allontana dalla prospettiva di Genon e deve verso quella che viene vista una massoneria antemassonica quindi riprende una prospettiva più vicina al cattolicesimo Denis Romain rimane nella prospettiva di riflessione massonica e anche pur dichiarandosi sempre un massone cattolico l'opera di Roger Maridolt ha una dimensione molto più ampia rappresenta la parte più fedele al progetto originario e da una parte continua una riflessione massonica dall'altra fa un percorso che lo porta a essere un grande rappresentante del sufismo si ricollega a un grande maestro suf cittadini dove riceve anche proprio il mandato di potere sciai bene considerato uno sciai quindi così tramite tramite Roger Maridolt questa grande triade questi ambienti massonici dalla Francia si spostano in Italia e cominciano a dare non so se hai visto quella ciò qui una cosa di Arnaldo Torno questi ambienti massonici danno vita sia a due loggie la loggia Iram e la loggia Anamnes a Torino e poi danno vita anche a Ambiedi del sufismo italiano e la loro manifestazione esteriore è la rivista Studi Tradizionali di Torino che per lungo tempo ha avuto fino dagli anni 60 fino alla fine se non sbaglio del 2000 ha avuto questa pubblicazione in Italia e questa rivista comincia in qualche maniera a interfacciarsi con l'opera di Evola e deve assolutamente distinguerla e far capire che l'opera di Genossi manifesta in prospettive completamente diverse mentre da un lato c'è un appiattimento verso una prospettiva politica una prospettiva anche filosofica e così l'opera di Genossi è una prospettiva che riguarda solo una via di ricerca anticole e spirituale per questo ho messo questa così che assolutamente non ha niente a che vedere con una prospettiva semplicemente tradizionalista ma si riguarda verso la prospettiva dei maestri spirituali quindi il percorso il percorso di René Nganou porta in qualche maniera a interfacciarsi a presentarsi con i grandi maestri della spiritualità che sono Ibn Arabi il grande maestro del sufismo e a Shankara il grande maestro del Vedanta e qui si vede proprio la differenza di prospettiva tra l'altro poi questa 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 dimensione dell'opera di René Nganou con questa rivista tradizionale fa 96 numeri che poi Armando Torno quando quando le pubblicano la statica scrive questo sul sole 24 ore del 2015 scrive viva gli studi tradizionali per far vedere Armando Torno non è una persona qualsiasi fa vedere l'importanza di questa rivista come presentazione di tutta una serie di tematiche questa rivista a un certo punto smette le pubblicazioni e nascono tre nascono due cose diverse una la rivista la lettera G che ha tutta una serie di articoli di riflessioni che pubblicano ancora continua la prospettiva di Ganon in Italia e poi la rivista tridirezionale seconda versione Noscete Y che riprende il percorso sia massonico che islamico nasce anche come terza prospettiva nasce l'edizione Pardes che hanno che producono una specie di come dire dei testi a fronte che producono testi testi massonici con grandissima fattura però tutti questi qui con testi a fronte inglesi o francesi ecco quindi è un grandissimo valore la lettera G si in qualche maniera si interrompe ma uno dei suoi continuatori uno dei suoi animatori Fabrizio Alferi ripresenta in maniera massiccia un progetto editoriale importante traducendo e presentando dei testi fondamentali come Architettura Tempo Eternità di Snodgrass che è uno studioso buddista di architettura che presenta tutte le architetture religiose un testo adesso se riesco a tirarlo fuori al volo però no questo no ecco sì è un volume fondamentale di grandissima di grandissima livello di grandissima di grandissima qualità cioè qui ci sono leggo l'indice il metodo defini le forme e la mente del Dio dottina cristiana islamica del simbolismo la natura del simbolo principio del simbolismo il simbolismo astronomico e temporale dell'architettura e poi fa vedere il tempio indiano il tempio hindù la cupola del ciclo in Grecia e Roma il simbolismo astronomico la croce il simbolismo astrale dell'architettura cinese cioè veramente è un livello di qualità enorme che si differenzia molto da queste prospettive da altre prospettive mentre invece quest'altri l'altra casa editrice Padres poi Logos traduce proprio queste queste cose poi fa l'edizione di Guénon con il testo a fronte quindi uno si ritrova il testo di Guénon e il testo a fronte francese c'è da dire invece fondamentalmente l'importanza di questa nuova versione della rivista di attuvi tradizionali che riprende tutta una serie di critiche all'opera di Evola ma ha pubblicato un testo importante aspetta questo ce l'ho a portata di mano ecco qua l'iniziazione massonica all'origine della possibilità attuale dove viene ripresa tutta la riflessione di Guénon e della prospettiva di Guénon facendo vedere la complessità un punto fondamentale che René Guénon ritiene che nel 1617 non ci sia nata la massoneria ma si sia riformulata la massoneria con un depotenziamento anche di tutta una serie di tematiche ed un appiattimento della riqualità della simbologia in questo libro che è importantissimo la rivista di attuvi tradizionali leggo l'indice il collegamento con il centro del mondo l'influenza ebraica l'ermetismo la tradizione celtica leggenda del Gra l'influenza pitagorica della cavalleria templare le realtà templare la massoneria operativa e rituali della massoneria operativa ecco a queste tre prospettive la prospettiva di Armonia Mundi che pubblica anche una sua dei quaderni di Armonia Mundi dove sono presentati dei testi fondamentali francesi e inglesi e che è anche in collegamento con l'associazione Temenos che è l'associazione inglese dove pare che ci sia anche il caro d'Inghilterra e da una parte c'è questa Armonia Mundi da un'altra c'è questa edizione prima a parte poi logos che ripresentano tutta la complessità dell'opera di Renegueron e dei rituali massonici originali poi c'è la rivista tradizionali che in qualche maniera riprende tutto questo percorso e ha pubblicato ora anche un testo sull'evoluzione di critica all'evoluzionismo c'è una seconda parte importantissima dell'ascito dell'opera di Renegueron Italia è l'ascito degli ambienti che non sono massonici ma sono musulmani in questo contesto è fondamentale citare l'opera di Paolo Rizzi ecco per darti questo riesco velocemente a tirarli fuori non ne ho preparato così tanto però loro pubblicano pubblicano dei testi una serie di testi adesso fondamentali della spiritualità islamica qui c'è Ibn Arabi il misterico storia del mondo poi Al-Kashani e l'introduzione al sufismo qui si può vedere in qualche maniera tra l'altro un testo è è è culato dal figlio di un mio amico del mio amico che insegna ora attualmente insegna arabo a Napoli ecco qui poi c'è pubblica nella rivista perenne verbia dove ci sono articoli fra quell'altro di Ulizi di Marco Marini che fa vedere così per far capire l'importanza di queste cose forse è bene sapere che molti che non credo che lo sappiano che Renegueron ha indicato nel mondo islamico il punto di riferimento in Ibn Arabi ecco l'ISIS tutte queste formulazioni di fondamentalismo nascono da un dalle dalle idee di un amico di Ibn Arabi che si chiama Ibn Arabi e questo è importante perché fa capire anche come l'opera di Renegueron permetterebbe agli occidentali di rapportarsi in maniera diversa e più più comprensiva verso il mondo islamico e capire di più quale possono essere le forze così quindi da una parte Renegueron dà un'indicazione che è diversa chiaramente per esempio da Evola ora non c'è stato il caso di citare però Renegueron dà dei giudizi durissimi su giapponesi e tedeschi e questo ci permette anche di far vedere la distanza si può anche ricordare che il primo incontro fra Genone e Evola ci sono delle recensioni incrociate perché Reghini fa la recensione dell'uomo secondo il Vedanta di Renegueron e contemporaneamente fa la recensione dell'idealismo magico di Evola chiaramente la recensione dell'idealismo magico di Evola è negativa e invece è positiva la recensione che fa dell'uomo secondo il Vedanta di Genone contemporaneamente Evola ha fatto una recensione dell'uomo secondo il Vedanta di Genone e anche questo c'è la diversità perché in qualche maniera c'è una critica c'è una critica che fa vedere mentre Renegueron si presenta più sullo spazio di contemplazione di conoscenza Evola richiama in qualche maniera una prospettiva delle dottine indiane dove si è ottenuto di più la potenza l'elemento di potenza è chiaro che è una prospettiva divergente per la stessa prospettiva a quanto si è fatto di tempo e quanto tempo abbiamo il tempo abbiamo dieci minuti vabbè e se mi vuoi fare domande ora io scusami spero di essere abbiamo parlato di tutto credo abbiamo parlato ma in realtà guarda Enon ed Evola Evola poi è scivolato verso il fascismo Reghini è scivolato questo non si ma vabbè però ecco per esempio c'è di una cosa no spendo una parola poi parliamo del tuo antenato dopo gli ultimi 5 minuti spendo una parola del mio antenato spendo una parola su Evola è vero che è scivolato verso il fascismo però vuol dire onestamente allora io sono io sono figlio di gente che allora parliamo del mio antenato parlando del mio antenato parliamo di mio nonno l'articolo 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 di Reghini sul perismo pagano a me c'è un punto che mi fa soffrire perché parla bene della guerra di Libia ecco nonostante tutto una bella differenza prevole che no è che l'opera di che no è la critica radicale dell'invasione occidentale no quindi io credo che la prospettiva con cui che no vede anche cioè Reghini è tutto entusiasto di questa di questa ondata nazionalistica interventistica prima nella guerra di Libia e poi nella guerra mentre invece non credo che che no apprezzasse sia la guerra di Libia che poi successivamente la guerra di Etiopia ecco c'è una differenzia fondamentale nell'opera di che no c'è una critica una critica radicale all'invasione occidentale e questo ecco è una prospettiva che si ripercuote ecco nelle vidi delle persone no e poi anche il discorso lì per esempio del fascismo ora è stata provata da Fuggio Conti è stata trovata la pistola fumante è stata trovata la dimostrazione di un versamento del Grande Oriente a Mussolini no come come se segui Pasanella che ha trovato che ha trovato Pasanella ha trovato le tracce dei rapporti fra i servizi segreti inglesi e Mussolini sono tutte cose di più poi fra l'altro ecco non ho avuto tempo di accennare a una cosa più terra terra no è strano che però mi domando se Julio Sevola avesse mai parlato di Enrico Mattei e questo sarebbe interessante no perché in fondo la persona che la persona che ha avuto un ruolo decisivo avrebbe avuto un ruolo decisivo per stabilire a questo paese un destino diverso indubbiamente Enrico Mattei non so se Evola abbia avuto la sensibilità o la percezione anche considerando che lui era negli ultimi anni purtroppo aveva avuto l'invalidità che quindi qualche problema grosso di comunicazione ce l'aveva avuto come per esempio è molto strano negli uomini rovine forse il peggior libro di Evola che ci sia la prefazione di Union Valerio Borghese io fino a poco tempo fa non sapevo chi era James Sandeton e che era il capo dei servizi segreti americani che ha salvato Union Valerio Borghese insieme così e la mia domanda se Evola era al cosciente di tutte queste cose qui la cosa più strana che era Andy Benoit che poi è il pensatore che ha scritto il male americano ha rifatto una prefazione forse senza forse evidenziare queste cose un capitolo abbastanza lungo e curioso però sarebbe anche di toccare l'influsso di Evola su Alexander Dugin ci sono un sacco di cose mi è capitato di vedere invece di leggere delle critiche feroci di cattolici a questo anche lì sono tutte questioni molto complesse io ho sentito parlare Dugin dal vivo a Milano tra l'altro quella volta io ci ho scambiato mezza parola ma era nel 2005 però soprattutto io volevo ecco un'altra cosa interessante io ho conosciuto Costanzo Preve che era un grande pensatore marxista che piano piano aveva avuto un'attenzione un interesse anche per certe tematiche lui ha scritto anche qualche cosa su Evola e Genone ecco quindi ci sarebbe da vedere tutti questi filoni come vanno a ripresentare comunque ritornando al punto chi penso che la cosa fondamentale da far capire e questo contrasta evidentemente con quello che dice Giovanni Sessa che l'opera di Genone e l'opera di Evola sono due opere diverse molto diverse che hanno delle prospettive diverse si legano a prospettive diverse di apertura di ricerca io trovo improprio l'uso della parola tradizione per Evola perché è qualcosa di diverso cioè riguarda anche la regolarità iniziatica la trasmissione ma riguarda soprattutto questa dimensione diversa di ricerca anteriore l'opera di Genone produce un tentativo dell'uomo di migliorarsi interiormente di fare un percorso di ricerca l'opera di Evola non mi sembra che sia la stessa in tutti i casi ecco quindi una differenza sarebbe secondo me sarebbe corretto se chiunque riguarda l'opera di Evola chiarisse bene che lui non ha niente a che vedere con quella lì Genone ecco non ci sia uno dei canali di comunicazione come invece molto spesso viene vista l'opera di Evola utilizza degli elementi di Genone per portare in altra dimensione mentre invece ecco una controriprova di questa qui è proprio che per esempio nel mondo spagnolo esiste la rivista Simbolos che tocca tutto il mondo latinoamericano dove c'era c'è Francesco Alizza e altri che non hanno questo problema e la ricerca su Genone si sposta su piani completamente immediatamente diversi che non tocca Evola quindi il Genone vero passa tramite Termania Mundi con queste ricerche con queste pubblicazioni che ha pubblicato Schucard Scalan tutti autori che in qualche maniera riportano anche la situazione degli Stuart la lotta tra Stuart e le tentative degli Stuart a Culloden di rivincere contro l'inglese tutte queste cose qui e poi ripeto è stato pubblicato decente Hinduismo e Buddismo di Kumanaswani mentre invece queste edizioni Logos non a parte hanno fatto un grosso lavoro di ripubblicazione dei testi di rimessa in punto della come si dice della eh delle traduzioni di Geronde dei testi dei testi degli antichi degli antichi degli antichi cantieri operativi delle antiche compadre operative la carta di Bologna il manuscrito Reci tutta una serie di cose col testo a fronte e la rivista studi tradizionale nella sua edizione ha pubblicato anche una grammatica araba per far vedere proprio questa dimensione costante di chiaramente criticano anche tante cose tante cose esterne sono molto dure che hanno criticato anche Sessa che non credo che gli abbia risposto due parole sul tuo antenato due parole sul tuo antenato napoleonico per fortuna sono intervenute ecco due istituzioni nella società di ricerca napoleonica e anche di Cremona che in qualche maniera hanno ripreso questo filone ma al di là delle mie vicende no è un discorso interessante la prospettiva a Cremona di questa figura diciamo Battista Biffi che era contemporaneamente ricercatore spirituale massone però anche era illuminista ecco non ci può essere quella distinzione in questo periodo e quindi bisogna vedere che idee passano in questo mondo cremonese dalla fine settecenta a questi giovani che poi si ritrovano immersi in una prospettiva napoleonica e cominciano a fare quel percorso che poi porta il mio antenato dopo dopo cioè combatte Spagna combatte Naus e poi insieme alla famiglia Lechi che io ho conosciuto che sono i famigli Lechi sono i grandi eroide sono i grandi padri della nazione italiana perché questi conti Lechi sono quelli che hanno iniziato il risorgimento prima di tutti erano gli ufficiali subordinati a Eugenio De Guarnier e quindi hanno creato questo e poi l'intreccio di questa carboneria c'è stato di recente Sergio Masini che hai chiamato anche te anche questo è un pallone interessante quello che mi interessa più a me è valutare anche la prospettiva esoterica iniziatica che ci può essere perché lì c'è per esempio questa grande figura di Dossetti che scrive il libro su Dante sugli aspetti segreti del medievo devo dire una cosa nella mia famiglia c'era in due in due rami diversi che poi erano anche rami così molto distanti nel tempo nello spazio c'è stata tutte e due l'immagine di aver partecipato all'erosene medievale sarà vero sarà falso però è esistita un'Italia delle minoranze a me capitava spesso così per esempio di essere a Bologna di passare dove c'era la prisione di Reenzo poi dove dove c'era ah fa l'altro io ho lavorato per sette anni a Bologna a 600-700 metri della casa di Mortara adesso c'è il film rapito ecco poi quali siano state le forme attraverso Cesano l'opera di René Guenon e l'opera di Reghini rimandano anche a una lettura diversa di Dante che chiaramente ha visto in Pascoli i di Luigi Baldi poi chiaramente c'è è stata la stroncatura la stroncatura gigantesca di un come si dice di un Umberto ecco però io ho anche delle pagine di Massimo Cacciari che invece esprime un giudizio diverso è tutto un mondo scusate io è la prima volta spero di essere stato efficace chiudiamo qui io ti saluto e buonasera il canale Storia Glocale vedrete la registrazione di Massimo Giapparini stasera abbiamo parlato di Genone e Buonasera a tutti buonasera buonasera